Gravi inadempienze e violazione delle norme stabilite per decreto dal governo. Siamo pronti a denunciare l'ASLA per diffusione colposa dell'epidemia. Così il NURSID, il sindacato autonomo degli infermieri, che ha presentato un esposto al prefetto di Arezzo e alla direzione dell'ASLA Toscana Sud-Est, pretendendo protezioni adeguate per il personale sanitario. Da giorni, infatti, il sindacato riceve segnalazioni circa la contrazione di forniture di dispositivi idonei alla protezione da Covid-19 per il personale sanitario, sino ad arrivare all'ultima fornitura di maschere non idonee. In mancanza di riscontro da parte dell'ASLA, si legge nell'esposto presentato, informeremo le competenti autorità giudiziarie civili per la tutela dei diritti del personale sanitario e l'ispettorato del lavoro, sino a ricorrere allo stato di agitazione del personale infermieristico. La mancata adeguata protezione del personale sanitario si traduce, prosegue l'esposto, oltre che in una inaccettabile offesa alla degnità degli infermieri e degli OS impegnati in prima linea a tutela della salute pubblica, anche ad un notevole aumento del rischio clinico per gli operatori che si trovano a lottare quotidianamente.